Cominciamo subito con la riete. Difficile riuscire a vivere una domenica in dolce compagnia quando c'è tutto un mondo intorno che complotta per rompervi le scatole. Non fatevi coinvolgere nei problemi di un amico per cui non potete fare più di tanto. Toro, la famiglia ha bisogno di voi. Non fate mancare il vostro supporto morale a qualcuno che sta attraversando un momento di difficoltà. Chi vi ama vorrebbe da voi maggiori attenzioni. Gemelli, avete le idee molto chiare su quello che volete e che non volete. Utilizzate questa domenica per parlare con qualcuno che vi sta a cuore e spiegargli le vostre ragioni. Cancro, meglio fare buon viso a cattivo gioco durante questo fine settimana. Infatti qualcuno potrebbe avere da ridire su certi vostri modi di fare, nonostante la vostra buona volontà di essere sempre gentile e disponibile con tutti. Leone, non mettete troppa carne al fuoco durante questo fine settimana, troppi inviti, gente da incontrare, impegni da rispettare, solo che facendo così rischiate di arrivare a domani più stanchi di prima. Vergine, un po' di relax vi aiuterà a ritrovare il vostro consueto buon umore. Infatti in questi giorni siete troppo stressati e questo va a incidere negativamente nei vostri rapporti interpersonali. Bilancia, non fate sentire in colpa qualcuno che vi vuole bene solo perché negli ultimi tempi potrebbe aver avuto qualche piccola mancanza nei vostri riguardi. Scorpione, non ci sarebbe da stupirsi se dopo molti anni qualcuno potrebbe finalmente cedere al vostro affascino e iniziare con voi una storia ricca di eros e di passione. Sagittario, la famiglia è ben presente nella vostra vita durante questa domenica, cui a tratti potreste anche sentirvi un po' soffocati. Rispolverate un hobby a cui non vi dedicate più da tempo, vi aiuterà a rilassarvi nel migliore dei modi. Capricorno, tutto sembra filare liscio come l'olio e voi avete una gran voglia di circondarvi solo di persone care. Chi è in coppia viverà momenti molto piacevoli, anche la tenerezza potrebbe essere più forte della sensualità. Acquario, non rovinate la domenica pensando troppo a una questione di lavoro che non va come vorreste voi, vivete con serenità la vostra situazione sentimentale affrontando una discussione con i dovuti modi. Pesci, i problemi con la vostra dolce metà possono aspettare, è probabile che quando sarete entrambi più rilassati vedrete le cose in modo più roseo. Domenica è invece molto intrigante per chi è single. Grazie. 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 Grazie.